Nelle persone con asma grave qual è il significato dei livelli di ossido nitrico esalato, il cosiddetto feno? Quando fare questo esame? Quando eventualmente ripeterlo? Lo abbiamo chiesto al professor Fabio Massimo Ricciardolo dell'Università degli Studi di Torino. L'abbiamo incontrato a Milano nel corso di un evento incentrato sull'asma grave che ha fatto il punto sulle più recenti acquisizioni sia in termini di diagnosi sia in termini di terapia. Il professore nella sua relazione oggi ha parlato del ruolo del feno, dell'ossido nitrico esalato spiegando appunto che è duplice, un ruolo da biomarker quindi che serve appunto per la diagnosi e per la proniosi della patologia respiratoria ma anche un ruolo esso stesso pro-infiammatorio. Ci spiega un po' come stanno le cose? Di fatto l'ossido nitrico è un gas altamente reattivo, è un radicale gassoso quindi è una sostanza chimica pronta a reagire con altri ossidanti. Per cui la capacità di essere misurata attraverso l'espirazione, attraverso l'espirato, l'aria espirata ci consente di sapere quanto è alto il livello infiammatorio legato alla pathway cioè alla via infiammatoria di tipo T2 perché il rilascio di ossido nitrico è strettamente dipendente da due citochine pro-infiammatorie, l'interluchina 4 e l'interluchina 13. Questo processo porta comunque come effetto ad una serie di risposte perché la capacità di rilevare i livelli di ossido nitrico direttamente è proporzionale alla quantità di interluchina 13 soprattutto che viene prodotta e rilasciata dalle cellule in questo stato infiammatorio. Quindi siccome l'interluchina 13 è una molecola che interagisce in maniera pleiotropica nelle vie aeree di un soggetto asmatico, noi possiamo presumere che livelli alti di ossido nitrico siano essi stessi una forma di indicatore della capacità dell'interluchina 13 di danneggiare il tessuto bronchiale in asma. Quando è che scatta il semaforo rosso? Quali sono i livelli di ossido nitrico di sopra dei quali lo specialista deve un po' allarmarsi o comunque prendere dei provvedimenti? Diciamo che nella letteratura vengono considerati livelli maggiori di 25 ppb o ancora meglio 30 ppb per indicare soggetti che hanno livelli significativamente alti. Ma dal punto di vista anche clinico, soprattutto legato ai rischi clinici, cioè la predizione di esacerbazione, i livelli ancora più alti, cioè tra 40 e 50, sono ancora più appropriati per riconoscere i soggetti asmatici che è in decessio di un trattamento immediato. Senta, adesso veniamo a qualche messaggio operativo per i colleghi specialisti. A questo punto farei un paio di domande. Quando rilevare l'ossido nitrico, il feno e come monitorarlo? Ovvero è sufficiente un'unica rilevazione nell'analisi del paziente oppure periodicamente nel corso delle visite di controllo può essere utile ripetere l'esame, il test? Allora direi che l'analisi dell'ossido nitrico esalato andrebbe eseguita a tutti i soggetti asmatici che abbiano una diagnosi di asma. Poi successivamente nella valutazione fenotipica, cioè la cosiddetta fenotipizzazione T2 alto, T2 bassa, è molto importante fare questa analisi a fine di riconoscere il paziente che abbia un fenotipo infiammatorio di tipo T2 alto. A questo punto i pazienti poi possono essere ulteriormente stratificati sulla base della risposta ai corticosteroidi inalatori, per cui se noi ci dovessimo concentrare maggiormente su pazienti con asma grave, cioè pazienti che sono in uno step 4-5 ad alta intensità di terapia inalatoria corticosteroidea, proprio questi andrebbe ripetuto nel monitoring. Uno per vedere l'efficacia di risposta e in quei pazienti in cui purtroppo lo stato clinico non è migliorato potrebbe essere utile anche nel decidere, nella decisione finale sul biologico più adatto. Insomma, è l'esame più importante da fare nei pazienti con asma grave, possiamo dire così? È uno degli esami sicuramente che vanno fatti e che possono essere utili anche nel monitoraggio, cioè nella ripetizione, perché hai in qualche maniera una visione della risposta e dell'efficacia terapeutica del farmaco che è stato precedentemente assegnato al paziente.